Buongiorno ragazzi Oggi è perdito Questa settimana, cioè questa giornata Chi? Non lo so Abbiamo parecchio da fare questa giornata E vi porterò con me ovviamente Ora sto ascoltando un po' di musica di sfere e basta Nel mio bicchiere sul canale e via la Tra cui devo andare a fare anche lo shampoo Per prendere la colla dei cinesi Siamo ancora qui a casa perché Dovevo andare in mia nonna E fare ancora i servizi quindi Ok Quindi siamo ancora qui Io ho già finito tutti i compiti Solo che mi devo ripetere Solo geografia se non sbaglio Ho già fatto l'anno in università E luce fu No, non mi si vede bene Comunque volevo dirvi che C'è lo scaletto in mezzo Così ora mi metto sopra Devo comprare un'astina per i selfini Perché in pratica Riesco a fare meglio i vlog Ovviamente Perché guardate che io come devo mantenere il mio cellulare Così Con le manine qui E sinceramente mi trovo un po' scomoda Vediamo fuori che tempo che fa Com'è la trasmissione E quindi Ah che bel solignolo Toc Toc Comunque E quindi me la vorrei comprare Giusto per fare dei vlog Migliori Non c'è un capello E c'è un sole fantastico Bellissimo Mia nonna Ci ha acceso quella luce Veramente fuori il luogo Nonna ma poi chi ha acceso quella luce? Ah ok E in pratica Noi siamo qua E oggi come allora Fino la città Non è vero? Va bene Comunque con questo qui Mi sto trovando da Dio Benissimo Nonna ma ieri Poi ho usato l'acqua a micellare Sì sì Ah come se è buona eh Eh Però è un po' pesante per me Perché? Per fatto del gonfiore che tengo Però hai visto Brucia un poco Dopo devi per forza risciacquare Però vabbè Ma pure per te è pesante No Eh perché lavare il trucco Per lavare il trucco No No perché a volte Quando faccio solo con l'acqua E col sapone Poi No no Si 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 toglie Però comunque poi c'è tutto rosso C'è sembra di poi che ho pianto Ma pure questo Ma pure a me mi ha rossato questo No a me no Forse ad usare la pelle è ancora più delicata della mia Sotto agli occhi è delicato Che a me ve li si compia Eh Vabbè io sotto agli occhi non la uso a se La uso solo per lavare il mascara Perché a volte solo con l'acqua e il sapore non si leva Perché forse a volte talmente del mascara non si leva nemmeno Qua non so quanti labelli ho signor 2 5 labelli ho Più quelli lì che il suo a casa Infatti ci vogliamo andare Oggi mi faccio accompagnare dal nonno Oddio Troppa Eh ci andiamo a fare lo shampoo Poi che facciamo Sì Eh dico Vabbè dopo lo shampoo Poi mi faccio prendere dal nonno E io lo chiamo Mio casino unicorno Non ti piace il mio casino unicorno? Che? Mio casino unicorno Sono piccoli dai No Sono fantasmini Li ho presi in Messico E niente Vabbè 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 Stavo un nuovo Con l'angola Con l'etichetta Non trovo Te lo vorresti Entra la valigia Ok E niente Ci sentiamo dopo Stiamo scendendo Yeah Stiamo andando al parrucchiere Nonna il cellulare Che borsa di borsa Alla Alessandra dell'acqua Sì nonna A Borsmo Beige Portiamoci il nostro La bella della Sien Anche se c'ho parecchie La bella C'ho una cosa Ok che è qui Mi nota Ma niente Porta a questo Ah Ne hai Senza che c'è un po' di Fonito Ti sei vestita Senza la luce Allora No Ma no Ma che è Fai sfilato Per Dior Ma chi Dior 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 Fai Dior Appeggiamento Per fare il massaggio Sì nonna Che abbiamo fatto Dior Ma davvero Caffè Claudia Schiffer Come si chiam Claudia Schiffer Ma davvero Caffè Non stavo E perché Non stai Nonna No E si vede Ovidio Mi Invece Si vede Ovidio Claudia Schiffer Sì Siamo pronti Nemmeno Stai Tenendo Ma tu Facci paura I mostri Fanno Fanno La Nonno Si mette Se Voglio Andarmi A fare Una Shampoo Tenga La Nonna Mentre Tu Ti fai Il Massaggio Mi Faccia La Shampoo Come Me Asciugo Come Me Asciugo Nonna Non Lissime Però Ma Lo So Allora Non me li Vorrei fare Lisci Perché Me li Faccio Sempre Però Non me li Vorrei Fare Nemmeno Ricci Perché Non durano Niente Ma E Caglio Tutti E Come Quella Volta Me li Toio Andrea Io Già Me li Volevo Fare Mamma Ha Detto Mamma Ha Detto Ti Porto Mamma Ha Detto Ti Porto In Settimana Non E Prego Per Per Perché Poi Ho Detto Vabbè Mamma Non Fa Niente Mi Piacciano Così Ciao Nonna Saluta Il Brodo Nonna Vi Aspetta Giù Vai Allora Sì Vuoi Farti Una Foto Ia 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 Allora Mia Nonna L'ha Tuttruccata Proprio Io Sembro Buona Che Cosa Che Su Ne Frega Ne Gornelline Sto Tempo Di Merda Sto Mantri No Bellissimo Stamattina Era bellissimo Ora Fa Che Gare Anche Che Nonna Sto Qua Sì Quali Allora Prendere Quale Un Mover Lo Devo Tene Per Dover Immaginati Gli occhiani No Vado Su Lì Sto Andando a Prendere Il Caffè A Mia Nonna Vado Da Sola Perché Comunque Posso Andare Non Sono Cioè Poi Devo Traversare Solo Lì Che Sinceramente Sanno Anche Le Strisce Non Passa Mai Nessuno Quindi Posso Andare Anche Da Solo Questa Una Persona Quindi Abbasso Che È Tantura Ma Non Arriba Porcher Pum Spietta Eccoci Andiamo Nel Quello Lì Dove Il Nonna Mio Si Gia 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 Un Caffè Da Portare Questo La Mamma Vorrei troppo farvi vedere la vetrina di là del trucco Però c'è troppa gente, non so, mi vergogno, dopo ci provo, ci provo Noi ci siamo fatti i capelli, fai mettere di qua così faccio il vlog Stiamo bene Non te lo posso non dire, vabbè, andate a scrivere nei commenti se stiamo bene Sono ricciolosi, ricciolosi Sono ricci, ricci, ricci Cioè non sono ricci Sì, 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 perché Vabbè, è veramente difficile Che si Io ce l'ho stai schiotto e rosso Ma pure io A prima calda L'abbè Baccio Delle schiacche Esagerate Va bene Sono scendendo Comunque Volevo dirvi Che oggi non posso portarvi da Chinese Ma vi porterò Nel vlog di domani Comunque Una ragazza Sotto al vlog Quella lì Di ieri Mi ha scritto Comunque Era una nuova iscritta E mi ha scritto Ah Allora Io già avevo fatto Un video ask Sul canale E lei mi aveva chiesto Se potevo farne Sì Era alzata la coppia E lei mi aveva chiesto Se potevo farne un altro Io ho detto sì E comunque Mi sono fatta seguire su Instagram Così lei mi fa delle domande Lì su direct Quindi Ditemi anche voi Se lo volete E vi lascio Il mio coso di Instagram Nella descrizione O alla fine del video Penso più della descrizione Me lo lascio Ok E niente ragazzi Questo è il video Noi ci vediamo domani Che sicuramente La giornata di domani Sarà più bella E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao